eccoci qua amici miei e siamo qua ci ritroviamo ahimè a commentare l'ennesima sconfitta della viola contro le zebrette bianconere ai quali non interessava assolutamente questa compa italia come sentiamo spesso dire invece godono come i matti giusto che sia così ma almeno non vi nascondete sempre dietro che non vi interessano queste partite con i viola partita in ghiaccio della juventus qualificazione mai in dubbio ottima juve sia in fase difensiva che in fase di ripartenza la poteva chiudere anche prima qualche occasione per la viola ma poca roba rispetto anche alla gara d'andata nella quale comunque avevamo avuto anche più possesso palla più possibilità eccezione fatta dell'autogol del nostro lollo venuti 2 a 0 finale con l'ennesima azione che ci purga di juan quadrado che ogni volta che entra farà sempre la stessa finta ma mi sembra come aria e roba non lo ferma mai nessuno tra un goschi in vena di regali come sempre ogni volta che gioca ne ha una da regalare agli avversari lui vuole fare il titolare se vuoi fare il titolare vai da un'altra parte che noi ne siamo solo felici ci teniamo il nostro pietro terracciano e prendiamo un portiere di riserva non c'è niente da fare quando giochiamo contro squadra con la difesa schierata poi tra l'altro contro la juventus con bonucci dell'ilte compagnia bella è molto difficile non abbiamo l'uomo che crea l'ultimo passaggio non creiamo occasioni teniamo palla teniamo palla ma non c'è nulla da fare come nella partita contro il venezia col bologna questa qui con la juve invece se giochiamo contro squadra viso aperto vedi napoli o inter creiamo creiamo magari non segniamo ma creiamo comunque sono molto soddisfatto ugualmente della nostra coppa italia anche se oggi sinceramente speravo di giocarmela un pochino di più sono molto soddisfatto perché già pensavo di uscire a napoli e abbiamo vinto pensavo di uscire a bergamo e abbiamo vinto ma niente da fare la coppa italia ci sfugge per l'ennesimo anno e sono già 20 o 21 se non sbaglio doppi confronti con la juventus è il quinto sempre di misura ma li perdiamo sempre però tanto cosa ci vogliamo fare come dicevamo adesso questi hanno più potenzialità economiche hanno più tutto non ci possiamo fare nulla ributtiamoci amici miei sul campionato andiamo a fare sei punti contro la rinata salernitane contro l'udinese combattiamo per questa europa e ritroviamoci insieme per un finale di campionato strepitoso continuando tutto questo ringraziando di nuovo il mister italiano per queste emozioni che non vivevamo da anni grazie mille ragazzi forza viola e continuiamo così grandi